Yugi a tutti duellanti ben ritrovati sul canale oggi ovviamente sempre in collaborazione con Konami sono qui con l'opening in anteprima del nuovo set speed duel strade della città dei duelli il nuovo set di speed duel in uscita in italia il 24 agosto detto questo ragazzi senza aperterci in chiacchiere io andrei subito a spacchettare per vedere cosa possiamo trovare all'interno questo nuovo set come abbiamo già potuto vedere negli altri set di speed duel contiene 8 deck e alcune carte promo in versione secret detto questo senza spoilerarci altro dalla scatola andiamo subito a vedere cosa possiamo trovare all'interno tolti i vari sigilli apriamolo e vediamo quali sono i deck al suo interno già ovviamente ci siamo spoilerati una delle secret che è molto bella questo praticamente è il mago nero di arcana e andiamo a vedere prima di tutto i vari mazzi al suo interno possiamo trovare quattro playmat che andiamo anche a vedere in todo da come potete vedere sono in tema yugi con il mago nero e dall'altra parte abbiamo arcana con la sua versione sempre del mago nero guardate abbiamo l'altro mago nero che ovviamente ritroviamo anche in versione secret insieme a arcana poi sul retro abbiamo tutta la lista dei deck e i formati di gioco insieme anche a quelle che sono le regole in modo tale da sapere anche come si gioca se volete approcciarvi a questo mondo andiamo adesso con il primo mazzo che dovrebbe essere quello di yugi considerando il mago nero e vediamo un po' le carte allora abbiamo il mago nero l'avile mago nero l'alchimista dei neri incantesimi mago del sangue penso che sarà strutturato come un mazzo incantatore combattente delle lame l'avile mago bianco che è l'alternativa all'avile mago nero che evoca il combattente delle lame poi breaker mago apprendista mago della fede e anziano mago vendicatore per quanto riguarda i mostri tra le magie abbiamo dispersione di malignità potere del mago spada solitaria avvelenata padronanza del potere magico in credo due o tre per due per poi fusione soldato ripristino miracoloso che mette i segnalini pietra del potente nero pece che mette sempre i segnalini e per finire abbiamo pronte l'intercettamento per quanto riguarda invece le fusioni credo che abbiamo solo il paladino più o meno poi qua non c'è la polimerizzazione probabilmente sarà in qualche altro mazzo passando avanti abbiamo credo il mazzo di gioia a questo punto considerando l'irfrid quindi abbiamo uno e due per di girfrid poi capitano saccheggiatore strego nel tempo infatti non sbagliavo guerriero razzo ragazzi questa è una carta è la prima serie un attimo fa prende bene piccola guardialata cavaliere comandante fridi il generale senza avversari pada dell'alligatore ragazzi carta incredibile sarebbe carina se anche questa sia in versione secret poi cucciolo di drago anche questa non sarebbe male poi il ragno roulette dado tifone dadi graziosi a questo punto mi aspetto anche dadi del teschio ecco la polimerizzazione che dicevamo prima rinforzi all'esercito anche questa secret non sarebbe male lama accecante uniti resistiamo colpo con catena dadi del teschio ovviamente kunai con catena e poi abbiamo le fusioni che sono guerriero carbonala giltia spadaccino di fuoco drago spada dell'alligatore e per concludere drago millenario ovviamente andando avanti abbiamo il pescatore leggendario quindi molto probabilmente questo sarà il mazzo di mako poi ovviamente l'altro lo andremo a scoprire dopo e vediamo effettivamente cosa c'è qua dentro abbiamo il pescatore leggendario orca aerea fauce volante pesce lunago praticamente un mazzo strutturato praticamente su tutti i mostri acqua murena perforante vergine dell'acqua molto bellina come carta anche molto vecchia poi abbiamo un mosso normale kraken il demone un'altra carta normale pesce di sette colori pescatore leggendario 2 che se non sbaglio era uscito anche ultimamente per ultimamente intendo un paio d'anni poi abbiamo anche qualche rituale qua dentro abbiamo balena fortezza passando alle magie abbiamo recupero ottima carta UMI che è una carta del primo set storico di Yu-Gi-Oh LDD leggenda del drago bianco occhi blu poi abbiamo pericolo acquatico piccola onda grande onda poi riemersione e giuramento della balena fortezza che praticamente è la carta per evocare la balena passando adesso alle carte trappole abbiamo muro tornado carica del pesce abissale eldonia paleozoica e basta bene passando invece al secondo mazzo abbiamo il mazzo di bruchido ovviamente e vediamo effettivamente cosa c'è all'interno abbiamo questo bellissimo insetto regina poi abbiamo insetto parassita carta con un artwork senza senso veramente bella poi abbiamo insetto sega elettrica un mosto di livello 4 con 2400 punti d'attacco quindi molto forte ovviamente per il formato poi zanzara magnetica fata delle spine insetto ululante insetto risonanza paranoide parassita tipo insetto parassita più o meno sarà parente suo principessa insetto goki bore un mosto normale molto carino con questo sfondo rosso poi insetto metallo corazzato e basta i mostri li finiamo qua per quanto riguarda invece le magie abbiamo moltiplicazioni di formiche barriera per insetti santuario rigoglioso altra carta per i mostri insetto poi lo spray che distrugge tutti i mostri tipo insetto quindi è un po' controproducente poi abbiamo uovo di ragno intervento sul dna tornado di polvere anche questa molto carina poi rovine diffuse e basta allora passiamo adesso al quinto mazzo che nel pratico era nello stesso pacchettino e abbiamo il mazzo di extra quindi abbiamo ovviamente jinzo jinzo supremo richiama jinzo ovviamente riflettore anche questa giocata sempre da lui distruggitron dottor franker derp poi abbiamo demone mega cyber annullatore di magia predone cinetico e poi passiamo a un po' di mostri normali prima delle magie abbiamo golgold molto bella come carta gigante d'acciaio giunto improvvisamente attraverso una spaccatura dimensionale siamo adesso alle magie abbiamo shock cyber energia incanalamento del cosmo con anche extra qua se ci fate caso poi dono del martirio amplificatore sepoltura sciocca ciclone cosmico ottima ristampa poi scambio creature onda elettrica psichica contro mentale e come ultima scudo prosciugante allora spostiamoci sul prossimo dove vedo un bel drago nero occhi rossi e questo veniva giocato da joy quindi non so cosa ci possa essere dentro allora vediamo vediamo un drago nero occhi rossi golem ingranaggio la fortezza movente kong voltaico molto bellino parshat cavaliere volante incantatore rosso scuro drago roppia canna necromante annibal carta questa molto vecchia come anche il mago della fede maschera dell'oscurità che questa aggiunge trappola e il mago aggiunge magia poi abbiamo curiposfera e per i mosti abbiamo finito poi abbiamo tra le magie prestidigitazione libro maestro molto bellina come carta mai vista poi fascino dell'oscurità ottima ottima ristampa poi abbiamo turbine raggio notturno nobiluomo dello scambio e anche questo secret non sarebbe assolutamente male passiamo alle trappole abbiamo ananas esplosivo metalmorph mikizure posto di blocco potente potentissimo poi buco trappola chiusa e basta passiamo adesso a quello che credo sia il mazzo di arcana nel pratico perché vedo mostri incantatori abbiamo chow chow sai il ferma fantasmi chow len il profeta monaco anarchico rashin meko maestro delle barriere il kiko ottima carta che anche questa secret non sarebbe assolutamente male poi abbiamo legione demone giullare doppio coston maizen maestro dei sigilli molto bella come carta si vede che ha uno stile molto vecchio di disegno poi il mago nero quindi abbiamo il mazzo di arcana ovviamente in due copie perfetto poi passando alle magie abbiamo freccianti magia talismano del sigillo a trappole poi abbiamo sipario magico nero mille coltelli praticamente tutte carte che vanno in combo insieme al mago nero poi abbiamo arte dell'evocatore che aggiunge il mago nero alla mano e passando adesso alle trappole abbiamo talismano del sigillo a magie diritto di nascita rinnovamento scuro questa anche questa fortissima arriviamo adesso al mazzo del burattinaio che ovviamente gioca gelatina rianimata in due copie poi melma umanoide per rimanere un po' in tema poi drago verme respingi melma praticamente tutto il mazzo melma li hanno fatto muka 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 infuriato questo è un po' arrabbiato poi melma rifletti magia serpente sinistro carta fortissima allora perché quando va al cimitero si riaggiunge alla mano poi abbiamo madre glizzli macchina genera gelatina macchina genera gelatina in due copie rifornimenti di emergenza carte infinite gelati segna mostro un'altra polimerizzazione per prima poi abbiamo difensore di gelatina desideri solenni carica di segna mostri e per concludere la fusione drago verme umanoide e per concludere andiamo all'ultimo gruppo di carte dove abbiamo le cartabilità dove oltre alle tante cartabilità troviamo esempio racconto della ballena infestazione di insetti intelligenza del cosmo inseguito da rayhunters ora li vedi con arcana melme melmose lo spadaccino cacciadraghi cuore di un guerriero un oceano generoso mia preziosa regina la minaccia macchina collezionista un fatto terribile sempre con arcana indole melmosa movente malvagio ricerca caiba corpa sirena città di buduelli materiale prematuro e poi altre carte che ovviamente potranno servirci per montare i mazzi che sono allora il teschio evocato lo schiacciacervello mago ordine del caos coleottero spade incrociate gilfid il cavaliere di ferro occhi rossi forza d'attacco goblin la fanciulla macabra marionetta magica principessa dei fantasmi cucciolo di drago occhi rossi coleottero reversibile guerriero di età atlantide praticamente tante carte che possono essere giocate all'interno dei vari mazzi poi libro di taioh scambio illuminato ultimo giorno da strega cannone magico a megatoni rito di zera per evocare il rituale che abbiamo visto prima la pistola dietro la porta magia spossante scudo da braccio magico drago sputa fuoco dark scorpion maenae la spina dark scorpion gorg il forte abile mago rosso e questo mi fa evocare un mostro arcidemone quindi molto probabilmente il teschio evocato poi un oceano leggendario libro della luna arma fusione lancio del martello vento perso portiglia rifletti metalli e muro di disturbo detto questo io adesso passerei alla cosa più importante di questo prodotto ovvero le carte che possiamo trovare in rarità secret ovviamente da come abbiamo potuto vedere sulla scatola il mago nero e lo slifer sono garantiti adesso è da vedere quali altre carte possiamo trovare al suo interno allora tiriamo fuori e vediamo abbiamo questo mago nero secret che è incredibile ragazzi la rarità secret su questa carta senza senso ma vabbè andiamo avanti abbiamo slifer il drago del cielo ovviamente come avevo già detto prima anche questo vabbè spaziale andiamo avanti vediamo cos'altro possiamo trovare abbiamo il riflettore la carta che giocava extra poi abbiamo il pescatore leggendario che è la carta che giocava mago anche questa molto bella in questa rarità secret poi abbiamo freccia antimagia già l'artwork è bello e la fogliatura secret rende tutto più bello è incredibile poi andiamo con la prossima abbiamo il rinnovamento scuro anche questa carina che la giocava arcana se non ricordo male poi abbiamo tor mamma mia mamma mia tornato di polvere secret ragazzi è senza senso poi per concludere scambio creature secret vabbè queste due nel pratico valgono tutto il prodotto troppo belle troppo belle vabbè bellissime anche quest'altra assolutamente però il tornado di polvere in questa rarità così e va bene ragazzi il video finisce qua spero come sempre vi sia piaciuto e fatemi sapere qua sotto con un commento se il 24 di agosto comprerete questo prodotto ovviamente io comunque ringrazio Konami per l'opportunità perché non è una cosa scontata se io posso fare questo è ovviamente grazie a voi e noi ragazzi ci rivediamo domani sempre qua con un nuovo video ciao a tutti grazie a tutti